No, noi ci è già scappato No, noi ci è scappato prima Si, vabbè, ma... Cazzo, siamo in 12? Mori! Sto subendo bene qua Oh, sta scendendo bene qua Si, si, si Qua parte che mi ha fatto il momento Uno via da tipo... Hai visto su secondi da qui Per ieri a me E' che quello qui Mamma mia, per uscire un sacco più da mille cose che non vedo. Ah, ma che cosa c'è io se buono, che c'è gelo? No, no, anche se... Sì, sì, sì. No, è mai capito. Viene il dubbio che ho butto qua, però... Lei sa, viaggio con ghiaccio? No. No. Oppure... Ammigo dito, aspetta, viaggio con ghiaccio... Inciacqua è un poco, quindi se mi estrai... No, no... Ah, ma... Quale? Ah, ma... Mi sono da un botto già... Un po' quella che rompono la rosa... Non so... Sì, la piazza. Ehm, questo è un megalito, poi sono più spesa. Mamma mia, vai a mega qua. È rollo. È rollo, eh? Sì. Speriamo che tu ho dato stesso. No, non so, non so. Il Pokémon è solo quello che non si può fare. È bellissimo. È la prima che ci riunisci alla lotta a casa con quei Ken. Sì, è proprio che è in realtà. Adesso, riunisci alla lotta e non mi ha presentato questo. Hai vinto. Full Ken. 13.000 punti esperienze. 1.615. Non dici. Nooo. Sì, il filo è una bomba. 9 palle. Speriamo bene. Sette palle. 9. 8. 1.6. Sì. Buono, vediamo che la bacca è dorata. Ah, sì sì. Speriamo le robe bene. Speriamo le robe bene. Sì. Vai cazzo. C'è te l'ha dato? Sì. Te l'ha dato comunque. Allora. Sì. Mamma mia. Ho sempre messo la barattina che è spaccata. Sì. 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 Lo sfondo bianco. Sì, è normale. E c'è la prima. Guarda che roba! Oh! Catturarti qui. Ho preso? No. Ho preso? No. Quanto? che bacca d'oro ha? no 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 non è stato svegliato sapevo e finiva l'usse ma non so nemmeno perchè me ha mi piace mi piace? cazzo hai vinto